Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, Umberto Cannella, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere per i tre maggiorenni fermati dai carabinieri per la violenza sessuale di gruppo su una tredicenne catanese compiuta nei bagni pubblici della Villa Bellini a Catania lo scorso 30 gennaio. Confermati anche gli arresti domiciliari, ma con l'obbligo del braccialetto elettronico per l'indagato che ha collaborato con gli inquirenti fornendo elementi utili alle indagini. Arresti convalidati dunque per tutti e sette i giovani è accolta la richiesta del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e della sostituta Anna Trinchillo. Già nella giornata di lunedì il GIP per i minorenni aveva emesso l'ordinanza di convalida della custodia cautelare per gli altri tre indagati. Per il GIP Cannella che ha convalidato le misure cautelari dei quattro maggiorenni appare evidente e viene scritto nel provvedimento che sussiste il pericolo di reiterazione del reato anche alla luce del fatto che l'orrore ha avuto fine solo grazie al tentativo della ragazza di liberarsi. Sulla base della personalità degli indagati, poco avvezzi al vivere civile, si legge ancora, appare probabile che in assenza della disperata reazione la terribile violenza sarebbe proseguita anche ad opera di altri indagati.